Ciao, sono Alice! Vuoi vedere il nuovo volantino? E dai, partiamo allora! Ruota il cellulare, vedrai il video nel modo migliore! Ehi! Perché non provi la versione online? Basta cliccare sul pallino in alto a destra. Lo sai che puoi regolare la velocità dello scorrimento del video? Vai in impostazioni e scegli la velocità di riproduzione. Vuoi vedere un altro volantino? Scoprilo subito su TrovaVolantini.it Su TrovaVolantini.it Le offerte della tua città, a portata di un clic! Che ne pensi di queste offerte? Scrivi nei commenti e aiuta gli altri a scegliere prodotti migliori. E tu, in quale negozio vai? Scrivilo nei commenti! Ciao! Grazie a tutti. Ehi, ricordati che giovedì uscirà il nuovo volantino Lidl. Non perderti l'anteprima! Lo so che vuoi vedere l'anteprima Eurospin. Non manca tanto, dai! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.